L'US20 informa che i certificati di esenzione ticket relativi a visite ed esami per condizione economica e stato 7R2, 7R4, 7R5 e di esenzione parziale della quota fissa sulla ricetta 7RQ sono stati spediti per posta a domicilio di tutti gli aventi diritto. Qualora l'attestazione non dovesse ancora essere pervenuta e l'utente avesse necessità di prescrizione per ottenerla l'interessato può rivolgersi direttamente al proprio medico di medicina generale al quale sono stati inviati gli elenchi dei propri assistiti aventi diritto all'esenzione. Per gli assistiti con età superiore ai 65 anni, in considerazione della presumibile stabilità delle condizioni reddittuali e di Stato che determinano una continuità del diritto all'esenzione con riferimento alle tipologie di esenzione per condizione economica, il certificato viene rilasciato senza scadenza. Si ricorda che responsabilità dell'assistito destinatario del certificato, nel caso di modifica delle sue condizioni reddittuali o di Stato civile che determinano la perdita del diritto, di non usufruire della condizione di esenzione all'atto della prescrizione e di comunicare tempestivamente all'azienda o sventi la perdita del diritto all'esenzione.